Primo volo del 2017, primo volo pieno di disgrazie Non vi ho fatto vedere niente perché ero solo arrabbiata, mi sono svegliata alle 4 e mezza e non ero tanto del numero di vloggeggiare, mi sarei arrabbiata con me stessa come una scema pagliaccia, va bene Mi trovo a Francoforte sul meno nella Cermania delle Cermanie perché oggi ci sarà il Lufthansa Digital Aviation Forum che vuol dire tutto e per me vuol dire assolutamente niente Pare che oggi in occasione di questo forum verranno svelate tutte le tecnologie nuove che verranno inserite a bordo degli aerei ma anche degli aeroporti quindi si parla di big data, di realtà virtuale, realtà aumentata Cosa c'era l'altro? Intelligenza artificiale Quindi io sono super curiosa di scoprire di che cosa si tratta Visto che sono arrivata un po' in anticipo però mi faccio un giro alla Welcome Lounge e vediamo come mi welcomeizzano Grazie Grazie Beh in tutto ciò mi sono beccata la neve quindi qui nevicava di bordo e dovevano pulire le piste ogni due per tre e quindi il nostro volo non è potuto partire è rimasto praticamente a Milano fermo sulla pista per quasi un'ora e io l'ho tutta arrabbiata Vabbè visto che non ho trovato niente di mio gradimento vado di roba sana non ci credete vero? No Siamo arrivati Ho conosciuto due amici di Ungaria Che palle Ecco lui se gli dico le cose brutte capisce perché capisce l'italiano quindi devo stare attento Già questa cosa che sono tutti in giacca e cravatta mi sta dando fastidio perché io sono con la maglietta di Star Wars tra le tantissime cose che abbiamo visto qua a Lufthansa Digital Aviation Forum c'è la realtà aumentata applicata ai lunchbox poi per esempio si può usare la realtà virtuale per fare dei training iniziali ai piloti ci sono anche dei nuovi modi per guardare video sia nelle lounge che sui prossimi voli c'è anche un simulatore di Superman in questo posto quindi adesso lo provo subito unisce la realtà virtuale con un marketing genio che si chiama Icarus io adesso mi tuffo lì dentro e vediamo cosa conviene dunque volevo mostrarvi come ho resistito al cibo prendendomi una sprem... una roba detox dato che l'altro era tanto tanto buono l'ho rubato un altro tra i nostri numeri uno oggi anche Elisa con Sleeping in Your Hands allora se avete sentito il nostro appuntamento di oggi avrete sentito forse che qualche paio d'ore fa ci siamo collegati con Francoforte dove c'è la Tech Princess Fiona Anciacalli che fa parte della squadra di Radio Number One della giornata di ieri l'abbiamo lasciata a Francoforte che non sapeva esattamente cosa stesse facendo o meglio non l'avevamo capito noi tu l'hai compreso adesso Fiona cosa stai facendo? adesso l'ho capito prima non lo sapevo neanche io ero un po' così brancolavo nel buio invece adesso mi sono persa completamente nella realtà virtuale perché qua ci sono tantissimi device telefoni cose strane per per intrattenerci maggiormente in volo come per esempio la realtà virtuale ma ci sono anche dei simulatori tipo c'è un simulatore di Superman per i piloti per imparare a diciamo a pilotare meglio ma delle robe assurde sto vedendo delle cose veramente fuori dal mondo chi è quel signore che parla alle tue spalle maleducato che ci sta dando fastidio? dovrebbe essere il mega boss qua di tutta l'autanza perché c'è in corso una mega conferenza stampa con tutti i giornalisti in arrivo da ogni angolo quindi non puoi alzare la manina e dire oh scusa stanzita un attimo che sto facendo un collegamento alla regno volevo dirglielo ma poi secondo me mi avrebbero picchiato tantissimo ok allora mentre tu capisci che cos'è la digital aviation lì a Francoforte io ti lascio dalla conferenza stampa se poi riesci a tradurci magari domani dopo quando capita noi saremo contenti io cerco di sopravvivere se trovi una medicina per la tosse in Germania porta ma la vediamo non si sa mai ok va bene un abbraccio a tutti a domani ciao 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 che meraviglia la digital aviation del domani del futuro del chissà quando e anche il collegamento con radio number one mi è andata sono stata bravissima ci hanno detto che lo volete il dolce e chi gli dici di no? scoperto adesso con mille ore di ritardo sono sempre la solita che sul iphone che ci hanno dato a parte esserci un sacco di app lufthansa installate c'è anche una carta d'imbarco infatti c'era scritto che ci sarebbe stato uno special flight ma non ho ben capito che cosa fosse adesso sono andata a fare un po' di stalking e ho visto che c'è una boarding pass sentite boarding pass che da francoforte ci porta a friburgo 45 minuti di volo ma non so cosa faremo stavo solo cercando di andare in bagno che non è all'interno del coso del forum che mi è arrivata subito la notifica sull'iphone di queste app stalker di lufthansa che mi dice che il gruppo red che è il mio parte tra 5 minuti quindi devo correre e mi tengo la pipì il gruppo vacanza sta andando a provare il nuovo volo ci stanno insegnando ad usare l'app in time roba che io non sono mai in time non fa niente in tutto ciò non ho ancora fatto la pipì e mi scoppa tantissimo la neve, la neve la neve non tornerà mai a casa questo è quello che fai qui la bagna smart e poi si scoprà per esempio per esempio non è ancora per ridurre i tempi di wait a questo calcio pre-level può essere messo qui c'è questa valigia smart che ha uno schermo qua ed è fighissima perché voi potete già prestamparvi il tag direttamente dall'app e inviarlo via bluetooth all'interno della valigia in modo che poi arrivate e fate direttamente il boarding senza dover perdere tempo quindi si risparmia tempo e fatica stiamo facendo finta di essere dei turisti e ci fanno fare tutta la full experience del turista quello figo e tecnologico quindi abbiamo prima visto la valigia super smart o comunque farsi da soli il coso della valigia e adesso non ho capito cosa succede dobbiamo seguire questo signore qua che è la nostra guida del giorno ok quindi sai il processo si è aperto il secondo e penultimo step che abbiamo fatto era molto interessante perché ci raccontava di tutta la tecnologia bluetooth attraverso i beacon che vengono installati in giro voi non lo sapete ma loro sono i vostri stalker quindi quando voi passate a un certo punto vicino a quel beacon se lui sa che avete un volo a una tal ora calcola perché lui già lo sa quanto tempo ci vuole da quel beacon fino al non avete capito niente vabbè comunque vi domanda le notifiche sulla smartphone dicendovi che ne so hai dieci minuti per andare al tuo gate oppure che ne so hai tanto tempo perché non vai a farti un giro nella lounge e ci sono i soldi per l'alarm ci sono i nostri stessi ok, Sophie e Fabian will help now explain you something about walkthrough easy access wonderful ok ok, so first of all yeah welcome and great to have you here this is Fabian I'm Sophie from Lufthansa passenger experience design and we would like to present with you a seamless new method of identification that we are going to introduce in the future in the airport environment we can automatically transmit the data do some kind of access check and then the passenger is welcome with his name oh, bella la tecnologia ma wow, un sacco di soldi ah, così ci danno anche questo thank you here we go è un cardboard 4 2 qua apposso ciao siamo appena saliti sul vero finto volo e questo è il resto on this flight you will meet Thorsten Bingeter who is head of digital development innovations department at Lufthansa he will give you all the necessary information regarding the flying lab after that we will start the first in-flight conference on a short and medium-haul flight please connect your headphones to the iPhone that you can listen to everything that is happening here in the front o no you can see so so it's so it's it's the first time we see a camera and then they don't have the idea vedete come si uscite e come si monti che temi abbiamo appena impostato l'app Fly Lab o perlomeno l'app FlyNet questo ci permetterà di vedere un qualcosa in streaming da quello che ho capito, non ci hanno spiegato niente lì hanno preparato un mini set, lo vedete lì che c'è la luce hanno preparato un set e andrà tutto in streaming così tutti i giornalisti potranno vedere cosa diavolo sta succedendo ci hanno anche dato la scatolina della realtà aumentata che contiene la merenda, quindi dopo andiamo a vedere come funziona e intanto vediamo cosa c'è qua dentro allora ne aprite il sushi cosa è questo il ciocchino un power bank, dai che mi serviva bravissimo, ma io non ci credo praticamente stanno facendo lo streaming di quello che c'è dentro al cockpit adesso è scelto, guarda siamo stati appena sbarcati dal finto volo c'è un film sono super stanca sto continuando a sbadigliare e direi che questo vlog termina qui spero che vi sia piaciuto ricordate di iscrivervi al canale di lasciare tantissimi like commentare, iscrivervi e direi che è finito un bacio e un abbraccio a tutti ciao